hola amicos e benvenuti in questo nuovissimo episodio di clash of lords 2 ita questo episodio non andiamo a vedere cose nuove o a fare qualcosa di speciale ma andiamo a riprendere concetti fatti in passato visto che mi sono accorto che il primo episodio di questa serie era fatto abbastanza male visto che ero un esperto con il montaggio e cose varie quindi vorrei riprendere un attimo i concetti e arricchirli un po magari con un audio migliore con una grafica migliore visto che il massimo cui riuscivo a registrare è 480p e laggava tutto e inoltre avevo un audio della voce che faceva praticamente schifo adesso dovrebbe essere tutto un po più liscio insomma allora iniziamo stiamo sul mio desktop e questa qui è l'applicazione che andremo a usare bluestacks questa è un'applicazione che impiega tempo ad aprirsi a seconda delle prestazioni del pc a me ci mette poco meno di 20 secondi insomma ogni tanto compare qualche gioco indesiderato infatti andiamo a rimuovere così e questo qua è il gioco che ho scaricato praticamente questa applicazione è un emulatore android praticamente tutto quanto quello che abbiamo sul telefono lo possiamo riprodurre su questa applicazione abbiamo il google play tutte quante le applicazioni installate insomma possiamo fare diverse cose andrete sul google play e scaricate clash of lords 2 versione italiano perché noi siamo in italia giochiamo all'italiano potete creare anche l'icona su desktop come potete vedere ho fatto il collegamento quindi posso aprirlo direttamente qui il gioco adesso ho aperto l'applicazione e adesso andiamo aprire anche il gioco il gioco come sul telefono si può aggiornare ogni versione che esce ecco qui attendiamo che si apre questa è la versione 1.0.178 quindi l'ultima versione per adesso il giorno che esce il video e si tratta dell'ultima versione ok come funziona il gioco cosa ci troviamo subito davanti subito davanti abbiamo gli eventi che compaiono ogni giorno scendendo possiamo trovare tutti quanti gli eventi che alcuni però attenzione non sono registrati infatti si deve andare sulla clessidra e si vedono qua in raccomandato altri tipi di eventi anche il limitato alcune volte possiamo trovare qualcosa questo gioco come risorse farmabili usa solo l'oro invece di clash royale no clash royale clash of clans che utilizza diverse cose che si devono farmare che sono ora non mi ricordo perché non ci ho giocato però sono tipo goccetta rosa goccetta nera insomma che si devono andare a farmare l'unica cosa che si deve farmare qui è l'oro come si farma l'oro in assalto risorse o in molte altre modalità che non vi ho da spiegare oggi praticamente questo è come si presente il mio villaggio possiamo andare a vedere le costruzioni nel negozio c'è la cosa apposita risorse difese forze armate stato delle glorie e decorazioni decorazioni diciamo che non servono praticamente a niente ma soltanto a decorare il villaggio come potete vedere io ho scritto viva andrilex dalotto che sarebbe il mio nome falso in nel gioco infatti se potete vedere qui sopra in alto c'è scritto andrilex poi il negozio vediamo troviamo stato della gloria le stato della gloria sono le classifiche nelle nelle quali potete posizionarvi e ogni tot di punti che fate nella classifica vi da una statua che se andiamo a vedere da certe caratteristiche al nostro villaggio per esempio questa qua statua del guardiaro aumenta i pf base delle statue delle tue strutture di difese attacco in base del 25% insomma sono cose un po' tecniche però servono molto quindi ogni volta che vi compare che finisce una settimana una stagione del dei vari tornei io ho messe tutte qui sono cinque mi raccomando andate da posizionare poi il negozio troviamo dopo le statue forze armate che sono queste qui che vi permettono di fare diverse cose per esempio arena degli eroi che ha una classifica tutta sua è questa qui potete impostare la formazione degli eroi perché noi abbiamo massimo cinque eroi possiamo entrare e abbiamo massimo cinque sfide possiamo andare aggiungere due sfide massimo pagando le 100 gemmi ciascuno e lasciamo stare l'arena poi abbiamo come forza armata reliquia antica che sarebbe questa qui che ci permette di fare molte altre cose e poi abbiamo il forgiando blocco abbiamo il bastione che non so no non ce lo mette però vabbè abbiamo il laboratorio alchemico e le sarie dell'eroe il laboratorio alchemico è questo qui e permette di ottenere frammenti immolando eroi per esempio io posso immolare questi qui ottenendo della polvere che questa polvere ci permetterà di creare qualsiasi cosa che ci servirà qui dentro man mano andiamo a aumentare il livello di questo questa struttura più cose potremmo andare a creare tipo adesso mi servirebbero 3600 e posso già potenziarlo 20 giorni wow poi le sale degli eroi appunto tengono gli eroi i nostri cinque eroi e poi abbiamo ve lo introduco già da adesso il bastione in cui possono essere introdotti altri cinque eroi però bisogna andare su di livello forze armate abbiamo finito c'è soltanto la sede della gilda perché voi dopo un certo tot potete entrare in una gilda la gilda è composta da massimo 50 anzi ne approfitto per invitarvi ad entrare perché io sono al momento nella stoppi servono 3.100 coppe contattate vega gandal me o tutti quanti gli anziani che trovate per poter entrare sì il nostro motto è gli adi non possono mettere il 55 nel nel villaggio perché vabbè non me la so qui a spiegare perché poi la faccio troppo lunga adesso parliamo soltanto del villaggio poi un altro giorno ve la spiegherò meglio comunque siamo una gilda molto attiva mi raccomando entrati da noi ok poi abbiamo dopo la base gilda in cui c'è un bot non è qui è potenza in cui c'è un bot che sarà a difesa del vostro villaggio questo bot a livello 146 è abbastanza forte perché noi siamo una gilda top siamo nelle prime cinque posizioni quindi siamo molto pompati come gilda ok andando a vedere nel negozio abbiamo queste diverse difese le mura i cannoni che attaccano soltanto unità terrestri le torri dei tiratori scelti mortaio lo stesso attaccano solo unità terrestri le difese aeree solo unità aeree torre magica guardia emerald torre mietitore e stato della vittoria sono quelle che attaccano tutte quante i tipi di unità soltanto che tipo stato della vittoria mietitore non attaccano le micro unità degli eroi ai mercenari che sono questi qua possono essere maghi streghe insomma un po' di tutto quelle più forti appunto sono stato della vittoria che al momento ha raggiunto un'illuminazione visto che ha questa stellina perché si possono fortificare rinforzare nel caso degli eroi si illuminano le varie strutture oltre alla stato della vittoria si come ho detto il mietitore che questi due sono insomma quelli che puntano più lontano come raggio d'azione poi come avevo anticipato il bastione non attacca di sé ma fa fuoriuscire eroi uno alla volta e poi abbiamo in difese sempre il sanctum che però non direi che non è una difesa perché non l'ho mai visto attaccare e questo si possono raccogliere i glifi mettere glifi sugli eroi che sono altri potenziamenti agli eroi mentre poi nelle risorse abbiamo capanelli operai che permettono di che sono gli operai che vanno a costruire le strutture il massimo è 6 abbiamo i depositi d'oro che contengono l'oro e le miniere d'oro per farmare oro le tabelle di ogni livello costruzione le trovate nel gruppo facebook clash of lords che vi lascio giù il link in descrizione insieme al link per scaricare l'emulatore sul computer bluestarks altrimenti potete giocare normalmente dal telefono ci sono queste tabelle che vi spiegano quanto ci vuole per aumentare fino al massimo livello che mi sembra che ho 35 45 il massimo dei livelli e quante risorse ci vogliono insomma ecco qua questo è il villaggio il villaggio le mie raccomandazioni sono di mettere i depositi d'oro e le miniere d'oro sparpagliate per il villaggio in maniera che in assalto alle risorse non perdiate tutto l'oro in una unica botta in maniera che con un eroe in una parte distraggono tutti i vostri eroi e con altri eroi si mettono a distruggere tutte quante le vostre risorse così per prendere oro poi posizionare le mura non tutte quante come un cordone ma in maniera da fare anelli in questo modo per esempio come ho fatto io possiamo andare anche a vedere altri villaggi magari Mr.Marco, Voltron, tutti quanti io vi faccio vedere Van Helsing pure lui ha fatto degli anelli è un po' sconsigliabile fare queste doppie mure però in maniera da circondare come potete vedere le varie strutture queste qua sono le illuminazioni delle strutture come potete vedere ci sono tutte quante torre magica non è illuminata è soltanto al massimo livello 34-35 insomma cannone è illuminato e tutte le strutture illuminabili sono rinforzate li ha portate tutti al massimo livello e li ha rinforzate compreso la difesa aerea il mortaio cannone la torre di terratore scelti la statua della vittoria il metitore nei prossimi aggiornamenti verranno introdotti gli rinforzi per il metitore torre magica e guardia airman insomma ritorniamo al nostro villaggio cosa c'è più da dire sul villaggio possiamo andare a potenziare una struttura al momento perchè abbiamo un muratore libero se clicchiamo sul muratore possiamo vedere le strutture che al momento sono in movimento cioè sono in aggiornamento e possiamo vedere che 1 su 6 è nulla facente al momento è piro quindi andiamo a prenderci un po' d'oro usiamo questi scrini usa usa e usa ok e andiamo a potenziare questa struttura perfetto le strutture ci mettono soltanto oro per essere potenziati e possono essere velocizzate con questi rotoli di velocità che tolgono del tempo al miglioramento della struttura il nostro villaggio può avere una difesa nel senso che non può essere attaccate però queste funzionano soltanto per assalto alle risorse praticamente nel torneo di coppe che sarebbe questo qua torneo dei signori potete essere sempre vulnerabili vulnerabili in un certo senso perchè poi avrete sempre le vostre difese nella schermata principale del gioco ve la vado subito a illustrare abbiamo questi 3 che sono gemme che abbiamo a disposizione se ci cliccate potete andare a comprarle lo scudo i muratori che sono presenti nel nostro villaggio che stanno potenziando le vostre strutture poi qui a destra in alto abbiamo oro che può essere aumentato potenziando i depositi d'oro poi abbiamo gli anelli le anime e i mutagini che questi qua ne possiamo avere infiniti oh credo mi sembra 9.999 no 9 milioni 9 milioni di risorse potremmo avere mi sembra non mi vorrei sbagliare poi subito sotto abbiamo i giorni e l'orario del gioco perchè il gioco segue un certo orario come potete vedere sono gli 8.58 ma invece io faccio dei 15.58 in Italia questo orario serve per appunto vedete qui ci sono i vari orari per aprire delle varie arrine le varie modalità servono per le varie eventi per i vari eventi insomma il gioco segue sempre questo orario perchè magari tu puoi essere in un altro fuso orario del mondo però devi sempre far riferimento a questo orario subito sotto abbiamo i vari pacchi dove potete shoppare poi abbiamo eroi oggetto dove possiamo andare a vedere dove sono stipati i nostri eroi possiamo andare a ingaggiare sia gratuitamente ogni due ore un eroe che però questi elmetti hanno le possibilità le probabilità di ottenere insomma no non sono le probabilità di ottenere ma sono ciò che potete ottenere le varie categorie di eroe e questi eroi gialli sono gli eroi che dovete prendere in considerazione non prendete mai in considerazione questi viola questi blu e soprattutto questi verdi che si fanno più schifo di tutti ok poi abbiamo in eroi oggetto vedi altri che possiamo andare a prendere gli eroi con i frammenti non solo eroi anche uova e cose varie poi abbiamo in prese e sale degli eroi che sono cose che non vi vado a spiegare adesso poi subito sotto questi eroi oggetto abbiamo attacca dove potete accedere a tutte quante le modalità di attacco tornare ai signori deposito del destra che è un evento che va a giorni campagna individuale assalto alle risorse che sono nella campagna solo nella gilda potete andare a fare battaglia suprema boss gilda clash gilda e giochi lord olimpiedi nel pvp avete queste tre modalità e nel giornaliero avete queste altre tre modalità non è soltanto da qui che ci potete accedere ma questo è un bottone molto utile poi abbiamo la serie della gilda che ci potete accedere sia da qui che dalla struttura della gilda la nostra struttura della gilda è a livello 10 andando nell'angolo in basso a sinistra abbiamo il negozio tutte le cose che potete notare abbiamo gli eventi altri tipi di eventi e le attività giornaliere cose che andrete a fare per poi riscuotere altre cose nell'angolo superiore a sinistra abbiamo il livello del del player questo livello del player attenzione non è il livello massimo del villaggio viene aumentato perché ogni costruzione dà un tot di esperienza quindi il livello di esperienza vostro aumenterà però non indica il livello massimo del del villaggio quindi non state a a vedere se uno al livello 150 ha il villo maxato non è vero perché come per esempio io tipo ho alcune strutture che si stanno potenziando eppure qui non posso aggiungere altra esperienza questa esperienza dice che più o meno avete vissuto sul gioco e quindi siete abbastanza preparati magari non sapete tutte quante le cose tecniche dettagli però avete una certa esperienza sul gioco poi subito a fianco abbiamo il nome del player e del villaggio quindi subito sotto il livello delle coppe e se cliccate sulle coppe potrete accedere a tutte quante le classifiche che vi si presentano a fianco abbiamo questo nuovo pulsante che sono delle sfide che se completate potete ricevere delle ricompense poi sotto abbiamo il tastino delle impostazioni qui potrete sulle due persone potete andare a parlare con i vostri amici andrete a chiedere andrete a fare amicizia parlare in privato sul gioco eccetera poi avrete gioco con gli amici per vincere questo è un altro evento insomma e qui potete riscutere delle ricompense ogni tot del municipio poi abbiamo questo qui informazioni sui trattati sono le trattate che vi danno queste caratteristiche sono cose che è sempre da comprare e scioppare poi abbiamo le impostazioni del gioco se mettere musica togliere mettere la bassa alto effetti sonori potete andare a cambiare il nome possiamo cambiare avatar scegli cornice scegli avatar potrete gestire l'account praticamente se avete già un account fate il salvataggio su facebook e se cambiate dispositivo potrete accedere tramite facebook e salvare l'account e qui insomma ci sono un po' tutte quante le informazioni del gioco poi nel forziere è un evento che al momento e non ve lo spiego adesso ve l'ho spiegato già in altri video quindi vi invito a seguire la playlist dei vari video che trovate giù in descrizione e poi qui sulla sinistra sul lato troviamo questa freccia che sono le chat del canale globale del server italiano che ci scrivono ultimamente soltanto arabi non capisco perché o stanno progettando un attacco di Isis oppure non so visto che sono tutti quanti livello 1 non capisco non riesco a capire cioè livello 38 livello 16 sono play non lo so comunque è invasa e qui poi abbiamo la chat della gilda dove potete andare a scrivere su questo lato del villaggio oltre alle strutture che potrebbero esserci abbiamo questi tre soggetti queste tre mini strutture questo qui serve per riscuotere mutagino e possiamo avere delle benedizioni che ci faranno molto comodo qui possiamo andare a scioppare e mettere al sicuro il nostro oro mentre qui ogni tanto vedete il tempo che scade possiamo andare a ritirare questi premietti che sono un po' quasi a caso e poi su quest'altro lato ero dimenticato di dirvi che c'è un altro accesso però qui è alle battaglie pvp l'accesso ma comunque possiamo sempre accedere a qualsiasi cosa inoltre in negozio possiamo andare a vedere in mistiche cose a caso sarebbero c'è il tema base dove possiamo andare a scegliere il tema che vogliamo dare la nostra base ogni cosa potrebbe dare dei vantaggi io per esempio ho questo qua montagne innivate e questi qua sono i vantaggi che mi dà potete vedere che ho in uso posso andare a potenziare aggiungendo delle strutture ai lati costano questi cosi al momento non so bene come si ottengono però si usano quelli lì per ottenere queste strutture ai lati potenziandole possiamo avere dei vantaggi questo è come si presenta al momento il mio villaggio senza queste strutture una dovrebbe andare qui una qui e un altro paio qui però al momento non ho possibilità di aumentarle tema base possiamo vedere che alcuni però non danno niente vedete non ha alcun effetto torri hanno effetto nel municipio abbiamo sia il tema base che crea base se andiamo su crea base abbiamo tre possibilità di creare la disposizione del nostro villaggio questo qua è come lo tenevo una volta e poi ho ripulito tutto e ho fatto in questo modo ed è il villaggio che ho attualmente ho anche un'altra possibilità di creare il mio villaggio ovviamente tutte quante strutture posso andare a posizionare dove voglio fare le cose che voglio insomma se poi magari se voglio rimettere questo basta che ovviamente finisco di piazzare le strutture e faccio salva e automaticamente nel mio villaggio ci sarà quella formazione delle strutture che avrò scelto insomma questo qua è ciò che abbiamo nel villaggio nella prossima parte del video nella secondo video che farò è quello appresso ovvero il video 1 questo è parte A e ci sarà parte B dove vi andrò a spiegare un po' i vari eroi come funzionano i vari eventi mi sembra perché aspettate un attimo le classifiche e gli eroi vi andrò a spiegare perché questo qui è il video che avevo il primo video che ho fatto questa qui è la playlist insomma sto cercando di migliorare questo video quindi penso che per oggi sia tutto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like e attivate la campanella a fianco al tasto di iscrizione per ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un video e noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando seguitemi anche per sapere tutti quanti i vari aggiornamenti ciao a tutti